Siamo alle solite. Quando c'è qualcosa che non va, quando ci sono problemi e difficoltà e non si riesce a spiegare tutto o bisogna tenere buona la piazza, la soluzione più semplice è sempre la stessa, dare la colpa ai giornalisti. Che cattivi questi mestieranti della comunicazione che secondo la visione di qualcuno non fanno altro tutto il giorno che pensare, scrivere e dire cattiverie. E poi la cosa migliore è quella di dar l'impasto alla pubblica opinione che non aspetta altro che urlare loro dietro giornalai, come se quella dell'edicolante fosse una professione da disprezzare e non da rispettare e tutelare. Vedete, tutto questo non significa fare del vittimismo e nemmeno difendere l'onore di una categoria che si difende benissimo con il lavoro e la professionalità di tutti noi. Questo discorso va ben oltre e vuole richiamare tutti al rispetto delle regole, del gioco e soprattutto della buona educazione. Quello che è accaduto ieri nella sala stampa dello stadio Bonolis di Teramo non è più accettabile in un paese civile. Insulti, urla, minacce e tutto quanto fa spettacolo, si fa per dire, non fanno parte di quello che dovrebbe essere il cliché di una conferenza stampa. Perché quando parliamo delle regole del gioco allora va ricordato che in una conferenza stampa dovrebbero essere ammessi solo i giornalisti che le società invitano. Da quel momento si diventa ospiti e il padrone di casa dovrebbe fare di tutto per tutelarli. Io non invito nessuno a casa mia per farlo insultare o minacciare da altri ospiti, altrimenti devo intervenire. Sono le elementari regole della buona educazione perché altrimenti non si fanno conferenze stampa ma incontri pubblici in piazza e lì ognuno fa come gli pare. Il presidente Campitelli potrebbe anche essere libero di lamentarsi o pretendere delle scuse nel momento in cui le sue ragioni saranno riconosciute e contro chi a suo giudizio sarebbe andato oltre in alcuni commenti. Ma sicuramente non è libero dalle regole dell'ospitalità. E tanto per far capire che la regola in generale va censurato anche il comportamento della Chieti Calcio che ha permesso qualche giorno fa l'allontanamento da parte degli ultras dalla sala stampa dell'Angelini di un nostro giornalista, Reo, pensate voi, di essere pescarese. Che dire, vergognoso. Il compito del giornalista non è quello di essere di parte. Certo, nel nostro intimo lo siamo tutti quando parliamo di politica perché abbiamo una nostra idea, di calcio perché la passione non si comanda, ma poi scende in campo la professionalità che fa parte del nostro bagaglio culturale. Indubbiamente ci sono buoni giornalisti e anche cattivi giornalisti. Non siamo tutti uguali, ma il rispetto, se si vuole stare dalla parte della ragione, sempre va riservato a tutti. Sia ben chiaro che quanto tollerato in questi ultimi giorni non lo sarà più.